Ciao a tutti, voglio iniziare a parlare di una maschera, della maschera dell'amante. La maschera dell'amante è uno dei brand della mente che noi utilizziamo come meccanismo di difesa. L'amante è un archetipo, gli archetipi generali sono stati scoperti da Jung, che ha parlato di archetipi dell'inconscio collettivo. L'amante è un archetipo, l'archetipo della trasgressione, cioè persone che non volendosi, diciamo, non volendo affrontare degli impegni della vita, soprattutto degli impegni di natura sentimentale affettiva, ad esempio hanno paura fondamentalmente di costruirsi una famiglia, di realizzare, diciamo, un lucro familiare, che non è né positivo né negativo, però, diciamo, cercano di, come dire, sopperire a questa paura attraverso questa maschera, la maschera dell'amante, che è una maschera trasgressiva, quindi interagiscono spesso nelle relazioni come amanti, come amanti o come personaggi trasgressivi, quindi, perché evidentemente se uno interviene come trasgressivo, intanto non, giustamente, spesso molte persone, appunto, non lo prendono in considerazione come, come dire, personago alla quale costruire un nucleo familiare. Nucleo del, diciamo, l'archetipo dell'amante sia maschile sia femminile, è più un archetipo maschile, ma è anche un archetipo femminile. È più un archetipo maschile perché le donne hanno un po' più l'istinto di maternità, per cui le donne tendono a utilizzare questo archetipo dell'amante più in là con gli anni, diciamo così, questa maschera dell'amante più in là con gli anni. Inizialmente hanno, diciamo, non hanno questa esigenza di manifestarlo, anzi, inizialmente vanno alla ricerca magari di un nucleo familiare perché hanno necessità, diciamo, la spinta istintiva di mettere su famiglia ed avere dei figli. Come si riconosce questo archetipo? Beh, si riconosce da persone trasgressive, ad esempio i Peter Pan hanno questa maschera dell'amante e fondamentalmente dentro c'è la paura, diciamo, di costruire una relazione sentimentale affettiva. Nasce dal fatto, questa paura di costruire una relazione sentimentale affettiva, che magari non si sentono in grado di gestirla. Spesso è una maschera anche della paura del tradimento, della paura dell'abbandono, può essere o può non essere, però spesso c'è dietro questa paura dell'abbandono nel senso che l'amante per definizione non può essere abbandonato. Quindi è una delle tante modalità con cui si maschera e si esorcizza la paura dell'abbandono affettivo. Questo è quanto, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram, Massimo Taramasko, ciao!